E cambiamo decisamente l'argomento. La Cascata del Marmarico ha ottenuto il riconoscimento di meraviglia italiana. La manifestazione di ufficializzazione del riconoscimento si è svolta presso il Palazzo di Città di Palmi, presenti numerose autorità ed esponenti politici, ed è culminata con la consegna dell'attestato che assegna il bollino alla Cascata del Marmarico nelle mani del Sindaco di Bivongi. L'associazione Riviera di Nautica di Davoli Marina, nell'ambito della sua archività di promozione del territorio, aveva segnalato diverse località di interesse naturalistico e culturale, tra cui la Cascata del Marmarico. E con questo riconoscimento ha visto premiato il costante impegno nella ricerca di canali che possono favorire la conoscenza e lo sviluppo turistico del territorio del Golfo di Stillage.